Ciao a tutti amici gamer e bentornati in questo video e bentornati qua su GTA 5 Online Ebbene sì, oggi, giovedì 20 aprile, con l'aggiornamento settimanale di GTA 5 Online è uscita finalmente la nuova funzionalità che era stata rimossa precedentemente perché prima c'era un'applicazione chiamata iFruit che però crashava, si buggava e quindi è stata rimossa e finalmente è stata riaggiunta Aprite qui sotto la descrizione, troverete il link per accedere a questo sito voi dovrete loggarvi e una volta loggati vi troverete qui questa qui è la targa base che vi dà il gioco che è quella di default in cui non potete fare nulla ma andando qui abbiamo intanto a nostra disposizione una targa su 30 quindi potremo avere fino a 30 targhe personalizzate e ora ne faremo una nuova insieme facciamo New Order, qui abbiamo l'anteprima della targa possiamo scegliere i vari background, ad esempio io la voglio nera perché di solito mi piace nera la targa perché sulle auto ci sta meglio e a nostra disposizione abbiamo ben 8 caratteri da poter occupare all'interno della targa io semplicemente ci scriverò Grim e facciamo Next volendo c'è il Car View che non so cosa cambi forse sta caricando, non so ecco, attenzione ho addirittura l'anteprima della targa su un'auto oh mio dio è fatto benissimo vi faccio vedere qui sotto c'è Car View o Plate View quindi vi fa vedere solo la targa ok facciamo Next, qui possiamo scegliere su quale veicolo applicarlo io ad esempio lo applicherò sulla OB10F White Body e faccio Place Your Order ok adesso mi dice di andare in un Los Santos Custom e mettere la targa personalizzata possiamo vedere qui le auto, le targhe che abbiamo appena modificato qui c'è scritto che l'ordine è in progresso e ovviamente da qui volendo se la vogliamo rieditare la possiamo rieditare e modificarlo come ci pare ok siamo arrivati allo Santos Custom entriamo e vediamo un attimo come funziona su quest'auto non penso ci sia l'alloggiamento per la targa ma in qualche modo adesso risolveremo elabora ordine mi dice costo 0 elaboriamo l'ordine l'ordine presso il Los Santos Custom è stato elaborato il tuo veicolo è stato aggiornato non so dove me la metta la targa essendo che questa auto non ha la possibilità di mettere la targa aspetta adesso torniamo dentro un attimo ho preso l'unica auto in cui praticamente non ho la targa targhe ecco c'è la sezione targhe con la scritta Grimm che però non si vede perché giustamente non c'è la paraurti posteriore quindi ora ecco ragazzi questa finalmente è la targa personalizzata che è la stessa che abbiamo selezionato sul nostro sito web molto probabilmente più avanti ne potrebbero aggiungere di diversi stili perché comunque sono stati liccati diversi stili che ancora non ho visto quindi niente sarà una questione secondo me di tempo verranno aggiunte più avanti altre nuove targhe vi invito a lasciare un like iscrivervi al canale se ancora lo avete fatto di seguirmi su tutti i miei vari social che trovate qui sotto nella descrizione da Grimm è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao